La flotta russa voleva bloccare il passaggio nell'Adriatico, cosa è successo? Le manovre tra le coste abruzzesi e il canale di Otranto per sbarrare la via alla portaere USA Truman. Anche dei velivoli italiani coinvolti, i dettagli dell'operazione. Delle navi della Marina russa hanno tentato di sbarrare l'accesso al mare Adriatico, posizionandosi a largo delle coste italiane nel canale di Otranto, in Puglia, e dell'Abruzzo. Le manovre miravano a bloccare del passaggio della portaerei della Marina statunitense Truman, che nell'ultimo periodo sta effettuando operazioni militari nell'Adriatico e nel Mediterraneo per la guerra in Ucraina. Nelle contromanovre della Marina degli Stati Uniti e degli alleati NATO sono stati coinvolti anche dei velivoli italiani, da guerra e da ricognizione. Non è insolito che NATO e Marina russa si fronteggino in mare aperto anche se solo a livello di posizionamento, soprattutto da quando è iniziata la guerra in Ucraina, magari per assumere una posa aggressiva nei confronti degli avversari. Ma cosa è successo questa volta?